Sei film dal 10 al 24 agosto animeranno le piazze San Modesto e Santissima Adolorata a Rione Libertà. Anche quest'anno infatti è in programma Benevento Cinema in Libertà. La rassegna è stata presentata a Palazzo Mosti dall'assessore alla cultura del comune di Benevento Raffaele Del Vecchio e da Bruno Petretti, presidente dell'associazione Ate. Tra le pellicole scelte ci sono Maradona, La mano di Dios di Marco Risi e La prima cosa bella di Paolo Virzi. Spazio inoltre anche al cinema straniero con titoli come Molto incinta e Quel mostro di suocera. Le proiezioni avranno inizio alle 21.15. L'ideazione della rassegna è di Gennaro Del Piano. La manifestazione, ha spiegato Petretti, fornisce un protesto per permettere alla gente di trascorrere le serate in piazza che per l'occasione torna ad essere vissuta come agora. Nelle passate edizioni infatti prosegue Cinema in Libertà ha visto le persone intrattenersi anche dopo il termine del film proprio per discutere della pellicola. Tranne il film sulla vita di Maradona, ha sottolineato Petretti, si tratta di commedie che anche se contraddistinte dalla leggerezza trattano di temi importanti che riguardano la vita di ogni giorno. Per Del Vecchio la rassegna permette di rivitalizzare la rione Libertà, un quartiere per troppi anni dimenticato. Tutta la città per vedere del cinema di buona qualità deve recarsi in questa zona di Benevento, ha affermato.